Ciao ragazzi, benvenuti ad una nuova lezione del ciclo SOS Traduzione dal latino all'italiano. Vi ricordo che questo ciclo di lezioni è destinato a coloro che sono alle prime armi con la lingua latina. Bene, cominciamo. Oggi parleremo di come si deve analizzare una frase semplice. Come avete imparato nelle lezioni precedenti, l'ordine delle parole in latino è più libero di quello della frase italiana, perciò quando traducete dal latino non dovete procedere in base alla successione dei vocaboli, perché non è questo che determina il significato dell'enunciato. Dovete invece individuare gli elementi chiave della frase, predicato, soggetto, complemento oggetto e i vari complementi indiretti. Considerate che ciascun elemento chiave si può presentare a sua volta unito ad altri termini che ne costituiscono naturali espansioni. Se presenti tali espansioni formano un gruppo con l'elemento che ampliano. Nell'analisi della frase i gruppi vanno individuati sempre in un preciso ordine, che ora vi illustrerò. Innanzitutto bisogna rintracciare il gruppo del predicato, cioè il nucleo portante della frase, l'unico veramente indispensabile. In questo gruppo ci sarà ovviamente il predicato, che può essere verbale o nominale, più tutti gli eventuali avverbi o complementi predicativi. Poi si deve individuare il gruppo del soggetto, cioè il soggetto vero e proprio, ma anche le eventuali espansioni in nominativo, quindi attributi, apposizioni e gli eventuali complementi indiretti legati direttamente al soggetto, per esempio specificazione, qualità, compagnia, eccetera. Bisogna quindi rintracciare il gruppo del complemento oggetto, ovviamente trovare il complemento oggetto e le sue eventuali espansioni in accusativo, come attributi, apposizioni, ma anche eventuali complementi indiretti legati direttamente all'oggetto, ad esempio il complemento di specificazione, di qualità, di compagnia, eccetera. Infine va individuato il gruppo del complemento indiretto, significa cercare tutti quei complementi indiretti non legati ai primi tre gruppi, ci potrebbero essere il complemento di termine, i vari complementi di luogo, complemento di agente, causa efficiente e così via, e tutte le loro relative espansioni. Ricapitoliamo analizzando la frase Puelle cum Letizia avie fabella saudiunt, parti sempre dal gruppo del predicato, poi il gruppo del soggetto, quindi il complemento oggetto, quindi i complementi indiretti. Andiamo nel dettaglio. Quando hai individuato il predicato devi fare l'analisi grammaticale, quindi cercare modo, tempo, forma, persona e numero, prestando particolare attenzione alla persona perché ti darà le informazioni precise sul soggetto della frase. In questo esempio il predicato verbale è audient, dunque si tratta di un indicativo presente, forma attiva, terza persona, plurale. A questo punto possiamo individuare il soggetto sia sulla base della persona del predicato, sia delle desinenze delle parole. Occorre trovare i nominativi che siano singolari o plurali. Nel nostro esempio il soggetto è Puelle. Ora possiamo individuare le funzioni logiche, cioè i complementi, degli altri termini presenti nella frase, in base alle diverse terminazioni dei casi. Nell'esempio al gruppo del complemento oggetto appartiene Fabellas, con la sua specificazione, avie, mentre il sintagma cum più ablativo è un complemento di modo. Solo dopo aver compiuto tutti questi passaggi saremo in grado di effettuare la costruzione, disponendo i termini latini nell'ordine logico voluto dalla lingua italiana. Nell'esempio la frase ricostruita risulta così. Ora puoi procedere alla definitiva traduzione. Se la lezione è stata utile clicca su mi piace! Se non vuoi perdere altri contenuti iscriviti al mio canale YouTube. A presto!